La scoperta del professor Vincenzo Colonna, 5 orme di dinosauro sugli scogli della spiaggia di Bari risalenti a 100 milioni di anni fa, non giunge del tutto inaspettata, almeno agli occhi dei più esperti. A spiegarlo è il geologo Marco Petruzzelli. Il tratto di spiaggia in questione, una striscia di circa un chilometro a nord del titolo Le Torrette, che in passato dividevano il territorio di Bari da quello di Bitonto, è un sito di orme di dinosauri noto da circa 20 anni. A individuarlo nel 2012 il naturalista Francesco Stallone. E lo stesso Petruzzelli a rivelarlo, sottolineando che lungo la spiaggia le orme appaiono in maniera discontinua. Quella che oggi vediamo come una spiaggia, al tempo dei dinosauri, era un insieme di lagune, isole tropicali, un po' come quelle che possiamo vedere al largo del Bahamas, del Madagascar o dello Yucatan, con ambienti legati a mangrovieti, lagune salmastre e lunghe distese di mare basso. Su questi ambienti lagunari camminavano e si cibavano i dinosauri. Tutta questa superficie a sud e a nord di Santo Spirito già nel 2012 è stata segnalata come superficie paleosuperficie ad orme e in particolare il ritrovamento di questi giorni testimonia le orme che sono presenti sulla paleosuperficie. E lo stesso geologo Uniba a individuare ulteriori nuove orme, stavolta di piccoli dinosauri carnivori. Dito centrale, dito sinistro, dito destro e tallone, così. Questa può essere un'orma di dinosauri. Di che tipo di dinosauro? Di un piccolo dinosauro carnivoro. E anche sul resto della superficie si riescono a notare tante piccole depressioni, non molto impresse, che però hanno questa forma tridattila. Qui si può notare che le increspature del sale della pozzanghera ricalcano perfettamente la forma del piede del dinosauro, che era quello di una piccola, simile a quello dei polli o delle galline o delle aquile. Tre dita, uno, due e tre. Marco Petruzzelli sottolinea che non importa chi scopre cosa, piuttosto chiede più fondi per lo studio e maggior interesse per la tutela di queste aree. Tutto il litorale pugliese, in epoche diverse, e su Bari, sia nelle cave che lungo la costa, si possono trovare diverse testimonianze di questi animali.